E me la voglio ir a lui ciliello, me la voglio appigliar da cilentano. Per mangiare bene bisogna prima di tutto essere coltivatori buoni, oltre che buoni coltivatori. Cioè le verdure devono essere fresche, la frutta deve essere fresca perché contengono più vitamine, più sali minerali, più antiossidanti. L'olio deve essere con gli antiossidanti certificati, con gli antiossidanti certificati. I cereali devono essere integrali, bisogna avere delle farine fresche come noi le abbiamo qui in cooperativa perché abbiamo il mulino a fianco al forno. L'altra cosa sono le carni e gli animali devono venire dal pascolo, devono essere ben alimentati, cioè perché una buona alimentazione dà buoni formaggi ma anche ottime carni. Questo vuol dire riuscire a avere un'economia circolare di sussistenza per un territorio e soprattutto di avere un'alimentazione assolutamente sana. Perché è vero che mangiare verdure è importante durante l'anno ma è importante mangiare verdure di stagione e soprattutto che vengono da un'agricoltura di tipo naturale. Qui alla cooperativa facciamo questo, mangiamo solamente ortaggi che vengono da coltivazioni naturali, dei nostri soci o direttamente le nostre. Utilizziamo grani locali per fare la pasta, il pane e tutto quello che sono lavorazioni con le farine. E ovviamente i nostri oli che sono il nostro fiore all'occhiello, sono il motivo per cui poi nasce la cooperativa. E sono i nostri oli biologico, doc e extravergine che danno poi la possibilità all'interno territorio di lavorare, di produrre e di avere un prodotto che sia sano e sia anche molto buono. Questa è un'azienda biologica, si sviluppa su una superficie di circa 70 ettari. Coltiviamo un po' di tutto, abbiamo il focus sui cereali, coltiviamo circa 15 ettari di cereali, fra cui anche molti cereali antichi come il farro. Poi abbiamo 1700 piante di olivo, poi produciamo frutta, ortaggi, abbiamo un allenamento di capre e di mucche. Tutte le produzioni dell'azienda vengono trasformate all'interno del nostro laboratorio aziendale e nel nostro spazio aziendale di vendita dei prodotti. Questa è quella che si dice un'azienda multifunzionale perché offriamo anche ospitalità, ristorazione. Abbiamo recuperato le vecchie strutture presenti in azienda e adesso oggi sono ristoranti, camere, mini appartamenti per potersi aggiornare. Noi siamo all'interno di un parco nazionale, quindi il turismo qui è abbastanza sviluppato. Abbiamo il mare anche a pochi chilometri e quindi offriamo questa possibilità di ospitalità all'interno della nostra azienda. Oggi ci sono molte persone che sono molto più attente e vogliono scoprire l'origine del cibo prima di tutto e quindi scoprono questo tipo di vacanza a contatto stretto con la produzione agricola, con gli animali e i nostri laboratori di trasformazione e quindi vedere effettivamente da dove proviene il cibo. È importante capire che tu fai una produzione sostenibile. L'importante per un'azienda agricola non è solo produrre cibo in maniera sostenibile ma anche venderlo in maniera sostenibile ed educare il consumatore ad un consumo sostenibile del cibo. Quindi la base fondamentale è la stagionalità del cibo, far conoscere al consumatore la giusta stagionalità dei prodotti. Questo è fondamentale per aumentare la sostenibilità della nostra impronta come esseri umani sul pianeta. E qui entra in gioco il biodistretto. Cioè per fare questo io posso essere una grande azienda sostenibile però se rimango da solo all'interno di un territorio molto male io devo creare una comunità sociale sostenibile. E il biodistretto ha questa funzione, aggregare i produttori e collegare i consumatori con i produttori. Il futuro della sostenibilità del pianeta aumenteranno attraverso un processo di emulazione. Cioè le aziende si moltiplicano perché vedono che questo modo forse è veramente l'unico modo giusto per produrre il cibo. E il consumatore ha lo stesso modo, viene educato, viene... Cioè lui riscopre il legame reale che ha col cibo. Che non è un'etichetta, non è un'immagine ma è il valore intrinseco del cibo. La nostra principale ambizione è stata quella di mettere insieme le persone. Lo abbiamo fatto nel biodistretto che è un punto del territorio che è l'aggregazione delle attività del territorio mentre la cooperativa sta su una parte del territorio. Quindi noi abbiamo creato un fitto scambio di relazioni tra gli agricoltori di tutto il territorio attraverso il biodistretto. avendo come base il tessuto fitto di relazioni della cooperativa. Però la logica non è più quella della competizione ma è quella della solidarietà e della collaborazione, della fraternità insomma tra gli uomini. Perché questo concetto è stato messo a dura prova e in alcuni momenti si è proprio perso, no? Insomma, a vantaggio della competizione. Invece noi dimostriamo, siamo la prova vivente che si può collaborare, si può vivere insieme. Anche avendo spesso idee diverse, no? Siamo riusciti a mettere insieme 410 produttori che collaborano tra di loro e si scambiano esperienze. Producono, produciamo soprattutto olio, ma anche vino, ma anche fichi, ma anche grano. E poi noi abbiamo una caratteristica che è quella di aiutare i piccolissimi produttori dei presidi di slow food. Cioè praticamente i soci ci portano anche un quintale, due quintali, dieci quintali di ceci di cicerale o di fagioli di controne o di salumi di gioi, olive ammaccate, salella. A proposito, questa è la pianta da cui derivano le olive ammaccate. Abbiamo 13 presidi slow food in zona. Tutti possono portarci i loro prodotti con i prezzi che dicono loro e se vanno bene li vendiamo. Allora capita sempre, voglio dire una cosa, che i prodotti ci finiscano prima che arrivino quelli dell'anno nuovo. Questo significa che abbiamo un bel successo nell'aiutare questi piccoli, piccolissimi produttori che mantengono in vita produzioni che altrimenti sarebbero finite. Il mercato Rareche è stato un tentativo di applicare un modello di sviluppo economico alternativo che fosse sostenibile sia in senso economico che sociale che ambientale. Attraverso Rareche abbiamo messo insieme all'incirca 24 aziende che producono con metodi rispettosi per l'ambiente, quindi agricoltura naturale, biologica e soprattutto organico-rigenerativa. Quindi partendo dal localismo, da un modello economico appunto locale che cerchi appunto di far sviluppare le piccole aziende, Rareche si pone come obiettivo anche l'educazione proprio del consumatore. Quindi affermiamo i principi della filiera corta, il rapporto con il cliente è fondamentale, lo scambio di informazioni, cerchiamo di spiegare il discorso della stagionalità dei prodotti, diciamo un discorso di salute, quindi di un'alimentazione sana. Il Cilento è il primo caso al mondo che ha avuto quattro riconoscimenti dell'UNESCO, ovvero il territorio del parco è inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, è inserita nella lista dei geoparchi, inoltre è inserito nel programma Men in Biosphere del Mab, e nel 2010 è stata inserita la dieta mediterranea nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità. Per cui questa terra era già predisposta per creare quello che poi è diventato un biodistretto, cioè dove cittadini, agricoltori, amministratori si sono messi insieme per creare una politica di sviluppo sostenibile del territorio, partendo dall'agricoltura biologica. Il biodistretto cileno è nato nel 2004, poi nel 2014 il movimento è cresciuto a livello europeo ed è stato creato INNER, che è l'associazione internazionale dei biodistretti, che a sua volta nel 2020 ha promosso la creazione di Gaud, che è l'alleanza mondiale dei biodistretti. Ma vogliamo comunicare ancora di più questa iniziativa in tutto il mondo per creare una massa critica sempre più importante e per lavorare insieme per migliorare il futuro del nostro pianeta. Poi il biodistretto ovviamente è a disposizione con i propri tecnici, con le proprie strutture, e poi anche alle stesse aziende agricole si fornisce un'assistenza tecnica di primo livello e quindi come usare le tecniche biologiche o di agricoltura organica rigenerativa sulle informazioni, sui bandi che ci sono, si possono organizzare iniziative comuni, promuovere mercati del biologico, promuovere attività sulla costa, per cui si organizzano biospiagge, che è un'iniziativa che porta a far conoscere gli agricoltori delle aree interne sulla costa, i turisti che erano, per cui è una promozione importante per degli agricoltori che non arriverebbero mai a certi tipi di mercati. Poi c'è la promozione di un mercato rurale contadino a Vallo della Lucani che si chiama Rare, che poi diventa anche itinerante ed è molto importante perché dà la possibilità alle persone di trovare i prodotti sani. È un po' un ritorno alle nostre tradizioni, però con la testa nell'innovazione perché le aziende agricole sono molto, molto interessanti e producono in maniera molto intelligente. Le attività del biodistretto Cilento hanno dimostrato che un gruppo di sognatori possono creare una situazione che diventa grande. Da un piccolo gruppo di agricoltori del Cilento si è creato un movimento che adesso è mondiale. Per cui il messaggio che viene dal biodistretto Cilento e che posso dare a tutti voi è che sognare bisogna farlo sempre perché i sogni si realizzano, se uno ci crede. Quello che è significativo è che in Europa i biodistretti possono svolgere e già svolgono in parte un ruolo molto importante. Questo perché l'Unione Europea con la strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, si è dato un obiettivo ambizioso che è quello di convertire al biologico il 25% della superficie agricola. Quindi i biodistretti rivestono un ruolo fondamentale perché convertiamo interi territori e non singole aziende agricole. L'importanza del modello biodistrettuale è stata recepita dalla Commissione Europea che nel 2021 ha pubblicato due documenti significativi. Il primo è il Piano Europeo per lo sviluppo del biologico dove c'è un'azione specifica, la numero 14, che indica a tutti gli Stati membri di avviare nuove esperienze biodistrettuali e la cosa che ci fa un po' di orgoglio è che c'è un link specifico all'esperienza del biodistretto Cilento. Il secondo documento è la vision a lungo termine per la gestione delle aree rurali. In questo documento il biodistretto è riportato come misura adatta a rivitalizzare le aree rurali. Quindi si ricava che la PAC, la politica agricola comunitaria, dovrà necessariamente per soddisfare questi bisogni dare un forte sostegno allo sviluppo dei biodistretti che in parte già è tracciato. Quindi abbiamo in particolare le misure del primo pilastro con quelli che sono chiamati gli ecoschemi che in pratica danno degli aiuti agli agricoltori che praticano un tipo di agricoltura in sintonia con l'ambiente in contrasto a quelli che sono i cambiamenti climatici. Abbiamo poi di partenza la condizionalità che è una delle caratteristiche e delle prerogative necessarie per accedere ai finanziamenti comunitari. E inoltre sul secondo pilastro abbiamo gli aiuti agro-climatico-ambientali. Questo vuol dire che abbiamo un quadro completo a livello europeo, un quadro per una conversione verde dei territori rurali nell'ambito dell'Unione Europea. me la voglio appigliare da Cilentano.